stiamo cercando di comprare le cose allora matita hb bene e la e la 2 qual è? poteva essere o l'hb o la 2 a una delle due ma l'hb fa schifo e ma l'ha chiesta la propria a me piace la 2b scusa ma devo prendere la 2b o la 2? ma io che cosa ne so e scritte le cose sul diario cioè ormai scusami scusami sei in prima media devi sapere le cose bocciata